Anche i precari del comune di Giarre hanno aderito al maxiricorso collettivo presentato contro lo Stato e la regione siciliana per ottenere la gognata stabilizzazione. Sono circa 2000 i lavoratori su tutto il territorio regionale in attesa di un contratto. A Giarre per ora hanno deciso di ricorrere alle vie legali oltre una decina di lavoratori sui 34 precari in forza lente, ma anche altri sembrerebbero intenzionati a percorrere questa strada. Al problema del precariato è stato dedicato un incontro che si è svolto a mercoledì scorso nella Sala Messina del comune Giarrese. Il principale problema dei precari è il contratto in scadenza. Infatti il 31 dicembre di quest'anno scadono i contratti e per la regione siciliana non possono essere prorogati. Tengo a precisare che comunque la legge nazionale proroga in tutte le altre regioni fino al 2018. E perché in Sicilia questo non viene fatto? Diciamo che la Sicilia ha costruito un reticolo di norme per lasciare sempre il precario in sospeso, in modo da poter poi nelle urne utilizzarlo a proprio piacimento. Voi avete appoggiato un ricorso che è stato presentato contro la regione siciliana e contro lo Stato. Cosa prevede questo ricorso? Allora, il principale obiettivo del ricorso è la stabilizzazione. Per quanto si possa pensare non è l'unico percorso perché c'è anche in subordine il risarcimento. In quanto nel campo del lavoro quello che vige non è il diritto regionale ma le leggi nazionali che vengono comunque regolate dalle norme comunitarie. Nello specifico quello che vige è la 70 del 99, alla clausola direttiva 70 del 99, alla clausola 4 e 5 che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato. Quanti sono i precari del Comune di Giarre? I precari del Comune di Giarre sono 34, di cui 33 istruttori e un AD funzionario. Beh, noi diciamo negli ultimi mesi abbiamo seguito le vicende di altri precari qui nell'Interland che in protesta proprio perché chiedevano la stabilizzazione. Quindi non è cambiato niente diciamo nel corso di questi mesi. Questi mesi sono state la solita melina del governo regionale che ci ha proposto più volte carrozzoni tipo la Resais. Non si comprende perché all'interno di un bacino già ordinario nel posto di lavoro debba subentrare altra gente che poi va ad aumentare la spesa.